ciao amsim situazione sentimentale ragazzi clamoroso amsim ha deciso di perdere con l'allegrendus allegra sconfitto sul campo ormai ho capito che come si dice da ciao amsim a ciao ciao ams ha detto lui testate parole che non commenterà più l'allegrendus capito come dico io di foso occasionale ma mettiamo ma mettiamo che non è così anche in pare paremmo sta sul cazzo allegri ma c'è sempre una maglia quello che non capisce quel demente sta lottando sta combattendo contro il mondo ha capito ha buttato la spugna ma come si fa è persa allora comunque allora ciao amsim allora ripetiamo hai detto l'anno scorso non facevi più video e lo fa di nuovo l'ha detto in questa stagione non farà più video e lo fa di nuovo ma la terza volta ma se vedi che tu non sei un uomo di parole uomo ragazzino perché per essere uomo insomma bisogna anche essere uomo bisogna anche lavorare fuori c'era un lavoro ragazzino c'era un lavoro che lavoro fai tu no abbonamento 99 centepa di qui c'era un lavoro fratello c'era ti aiuto ti aiuto ti faccio psicologo ti posso fare psicologo assistente psicologo bastarsi hai rotto i commenti ha detto hai di nuovo offeso la tifosera juventina siamo stupidi tutti stupide c'è uno non può non può sottare con il monza ripeto anche a me mi sta su cazzo allegri ma non posso sottare ma come l'inter la sotto e il calcio è questo il calcio è come si dice calcio sport e si rosica si perde e questo è quello il calcio bisogna prenderlo con con scioltezza tu sei malato ormai sei ma tutto lo dicono sei diventato l'onzi bello del web comunque ti devo consigliere come se tu sei adesso una mia rubrica che l'ho inventata io sta rubrica e purtroppo che tanti youtube hanno visto spesso perché impariamo faccio pure io addirittura ti tangono pure ti tangono capito perché loro lo faccio io fanno a favore tutte tutti i copioli però io ho incominciato per primo questa rubrica ti ho detto tu sarai 8 9 anni se sono 9 anni io tu sarai lì pure la stavamo forse per due 9 anni su youtube io che ti conosco abbastanza bene tu eri allegriano non c'è stato mai una volta che hai detto guarda ragazzo ho sbagliato ho sbagliato vedi cosa c'è fiscale ho sbagliato quale sbagliato che scrive scasso rabbio ho sbagliato non è tanto bisogna l'aurice forte ho sbagliato bisogna anche la tu criticarsi capito non c'è stato mai da te ma tu capisci di cosa capisci di calcio vai a allenare tu vai a allenare tu cosa faccio io perché ci sei tu insegni calcio che insegnare calcio non capisci niente che capisci che capisci ripeto tifoseria sembra che ci 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 sfotti per i fondelli ci degrati no ma perché bisogna esultare tenta possa una cosa mi sta pure a me sul cazzo allegri però chi l'è prima in campionato e io dico come si fa il caccio noioso di allegri stare prima in campionato avanti spiegami argomentati spiegami questo spiegami anche a me mi sta sul cazzo ma com'è cosa sta primo no te lo dico io che capisco di caccio ti dico subito un napoli caccio champagne finito campo allenatore quindi un napoli ancora stava risettare l'indio tra squadroni che dicono cose non è riuscita a vincere col gioco noioso di allegri e siamo giocato alla pari un mila stavo ringuagliato rome lazio la stampo ped quindi chi c'è sotto la juventus se l'evesse prima c'è avesse un motivo dimmelo tu col gioco noioso dimmelo tu dimmelo tu vedi manco io l'odio allegri lo schifo forse più di te anche se hai fatto 250 mila video però poi io dico ma perché su cristiano è primo perché hai culo perché avevi culo avevo fatto è primo no perché sempre perché capisci di caccio e quelle da sotto che cazzo stanno cosa face cosa fate cosa fa di minder perché non siete 10 punti avanti che sta solo per sto io e sta solo per sto tu con noi non è in vecchia dimmi dimmi il primo tempo l'indio comunque l'abbiamo giocata poi secondo tempo si in difesa però alla fine non ha vinto con noi ma perché 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 un tiro in botto solo dimmi motivo di spiegami questo allora spiegaci questo quindi tu che offrendi ancora di fosio vendini smettila ma se deve essere di parole non fare più via la gente o mai tutta età la disfotte senso io vengo su fans su twitch su basta anzi o per primo visti ricordi ti voleva aiutare vattene questo vortice e forse un ballare più parla di capare di arricoso capito però tu dico subito i visual i visual diminuiranno quindi o mai se in questo turno o meglio come rubrica io non è tanto fatti fare uno video ti preta sfruttare perché i due insulti offendere gli vedeni stupido perché ma io sono intelligenti perché l'intelligente sono intelligente gli altri sono stupide ma che stupido tu sei tu sei coppistocchi tu che stupido sei tu stupido uno per risultare lei non si risulta proprio per canale veri visual no forza inter forza inter come si fa a dire forza inter mamma mia ripeto deve fare l'uomo non fare più video fai più bella figura ascolta uno che è più grande di te un lavoratore capito tu che fai se me la stanzetta picchietta un po da rifresca la vattene le vattene la stavolta invece dei storici vattene ischia vattene ischia ma vattene ischia il mare qua c'è il mare qua c'è il mare qua c'è la proprio il percorso tu sei fuso me la domanda ma a te youtube per esempio ti ha fatto male ti ha fatto male e sai perché hai 74 mila iscritti perché tutti hanno i ventini guarda caso secondo canale 8 mila com'è sta differenza mi spiega questa differenza argomentiamoci perché di 4 mila 74 mila iscritti argomento tu ci dico io argomento argomento come questa parola di argomento mi è uscita da lui argomentiamoci cia da cia da amici a cia da amici a cia da amici a cia da amici a cia da amici io ti sfumo perché tu sei da sfottere tu così sei tu sei classico secchione che ha studiato una vita e non capisci un cazzo tu secondo me non sai fare un piatto di pasta ascolta me tu non sei cucina non sai fare un cazzo non sei una nullità se non ci fu stato youtube tu nessuno ti caccherebbe capito come sto fatto invece a me tutti mi cagano su youtube fuori adesso capisco di caccio ma è dire con lucazza è scasso ma è di così fiscale è scasso ma è un rabbio piccolissimo rabbio o primole di oscar la vita l'indificio rubrica rabbio quindi sì sì tifoseria tifoseria non c'è un ripeto un anti anzi non c'è un interista milanista cosa che praticamente degrada non può neanche nel web non c'è uno che dice forza juve poi perché odia lì non ce n'è uno capito tu hai trovato questo sistema ormai ripeto io perché ti conosco da anni anni sei succupe del tuo personaggio succupe del tuo personaggio ormai è finuto cambia cambia appena cambino briva vai 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 bricton il caccio lì ma se sì la gente non segue nessuno poche viste e tornerà a parlare alle crendus capito ripeto pure a me mi sta schifo su allegra ma non vuoi come fai tu a offendere quindi che esultano no non esulto ma che cazzo dici bisogna sempre esultare perché c'è lì di sotto perché è una questione anche di maglia c'è la maglia la juventus capito non ha caputo no c'è vero è limitato il c'è vero di quel ragazzo è limitato capito perché lui ci interessa veramente no io ci guadagno alle crendus capito così ma almeno lo dici perché qui non che dici no ma io sei così sei così capito pure a me mi fa schifo a lei come gioca e bisogna cambiare allenatore ma non sei tu il primo che l'ha detto nove anni fa l'ha detto max che c'era prima allora lui devo dare gli onori e dopo nati per vincere questi due sono stati tu eri in goda la sotto le capito come sai che fallito guardiola fallimento 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 allora stai venire se l'aspetta mi aspetta che faccio questo tipo di crociato capito si bravo sei cresciuto canale bravo ai soldi bravo ma sei lo zimbero del mondo juventino minchia tutti dicono svergogno è quello è meglio che cambi il tifoso tossico sei tu che dei grini come dice i tifosi vendini cioè i tifosi vendini vanno stadio ti fanno a juve più ci sono quelli come me ci vado mi fa schifo a lei però ti fa la juve vecchia e si gode io godi i gatti oh sborrato se potevo ti sborrava in faccia hai capito sì o no minchia ma usc'è vero del limitato 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 basta quindi ripeto ricontina a fare alle crendus ti ha preso il fegato il per il poco mai non 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 c'è verso è stata una sconfitta per te capito ma no perché ne ripeto tanti guarda le allegrani sono una minima si fa una percentuale sono vado al 70 per cento che non lo vogliono più il 30 per cento che cosa combatte il 30 per cento ha dei video monodimi monodimi sei allegro allegro malato 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 allegro scrive scrive cambia di invece devi dire malato di allegrentus scrive malato di allegro scrive così cambia nicchia malato di allegro io sono malato ad evitare una malattia cosa malattia ragazzi ma recuperate da quello lì io si potesse parlare da vivo come ho capito i soldi ho capito le visite la gente basta cambia cambia cosa però se cambi dopo una vita dopo tre quattro anni fa così perché prima non ero così io dicevi forza grande all'era i video ci stanno che hai cambiato cosa solo per visual basta di nulla che parli tutti ti hanno abbiamo sputtanato tutti fai video cosa vergognati basta però era una mia rubrica siccome ho disfotto perdo anche io l'hai visto per te e non va bene quindi ma non ho buttato riparla di non ti allegrentus capito io devo fare rubrica per foto di tutte le minchiate che dici grandissime minchiate capito perciò io un dio c'è io praticamente lui mi dice stupido a me perché ho tifato mi ho tifato e godi i gatti vedi che elemento quello vedi che elemento e poi dice ma non date patenti da tifoso no no si tu no io dono io devo patenti da tifoso io so più di vento al 100% tu manco non può essere no uno che dice forza inter tu sei juventino dici fallo per scherzo per viso no non sei juventino malato malato vergogni che cazzo dice io ho tifato pure la juventus quando non sarebbe pure quando c'era mai freddi che significa questo significa essere anche tifoso occasionale e la squadra va male non ti fu più l'allegrentus poi la squadra va bene di difuso da juventus si allora tutte le squadre chiede provinciali anche le grandi scuole tutta cos'è allora milan nell'indica avevi dieci anni cominciano un end tu ti indica no ma non ti fu più mila indi tutti ti fanno mila indi solo tu tu sei un caso strano da psicologo ascolta a me fa lavorare youtuber a te ballando sui miei menti ti ha fatto male basta e non ti fai ricevere i video silenzio ma ragazzi un minuto di silenzio era per colorare quel demente si fotte il viso perché cosa manca gente che li commenta mai commenti la tu ci senti stupido a noi mai commenti la non lo capisci non è quasi di fa juventus allegri in merda va bene ma c'è juventus capito juventus tu non lo capisci ma è un tossico ma sai cosa è il problema tuo se parlassi solo di allegrentus va bene ma tu metti in mezzo i rifosi pure tutto il mondo del di fossile la tossica da avere tu generalizzi ma quelli che sono stupidi quelli che godono con il monzo con il monzo una partita per questo monzo in casa una partita per scuola battu monzo oggi come oggi capisci niente non capisci niente raccomandati avanti spiegami spiega tu devi dire in bare palermo ti spiego perché la juventus allegrenzo fa schifo squadra mediocre fa schifo dimmi perché gli altri non riescono a superarla dimmi un po' adesso adesso dimmi un po' dimmi un po' perché purtroppo quel demente ha quel sistema di cortomuso che funziona in italia te lo argomento io all'estero no perché ti fanno un quello quello civile ti fanno quello tanto anche un maccabia in effetti capito questa verità perché l'italia il caccio è medio ocre capito solo l'indel in den vada in dennavoli c'è da picchiare perché un mila pure poi vengendo o mai finì un mila pulmina con il casto perderà e andando avanti quelli si salvano ancora quelle squadre ma appena incongerano riamma rid anche l'indel lars la margessite basta finio l'indel sia in dennavoli perché i campionati in italia è mediocre ricordano sempre sto fatto ecco 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 chi capisce di caccio io doveva avere 74 mila iscritti non tu capito ma è argomento giusto ma non capisci un cazzo stamente detto questo un minuto di video veloce e veloce forza napoli stasera forza napoli stasera vedi facciamo napoletano stasera vince anche perché devi vincere perché tu c'hai l'indel devi vincere per forza per superare e salire anche tu in classifica se vuoi vincere pure il campionato secondo consecutivo e quindi pensa per te prima e poi giochi contro di noi buffettino quindi questa sera da juventino come non mi sa sul cazzo forza napoli anche napoletani quando ti buttano un merda la juve dove moderne invece danni venite salutare napoli che incomincia sempre loro ma lo sai quando interisti invece dicono munnezza anche youtube munnezzaro l'ota munnezza però poi tu dici no ma meglio che vince l'indel cimbiostri io venivo a napoli volevo napoletani che vince l'indel cimbiostri io vedo su mano anche anche quelli sono malati della juventus perché ruba ruba che ruba la scorsa vede un campionato vuol dire che siete più forti che ruba minchia che ruba che ruba neri che ruba che ruba non ruba quindi da juventino siccome non vi schifo forza napoli battete per scritti e io poi ecco una piccola malattia una piccola frustrazione ciò per l'indel però li sfotto l'indelista me che dico inter fili di puttana quando non ci riesco capito è così e quindi iscrizione a candipare panermo quindi avsi ha gettato la spugna ha detto che non ti farà più windows ma ci dobbiamo credere ma 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 tu di parola poi avvi tre volte da due anni tre volte l'ha detto l'anno scorso no se c'è l'indel su non ti farò più come troppo la patria di windows e lo commendo quest'anno in grado in corso basta 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 monza addettura addettura no basta tre volte l'ha detto quindi ma io sono intelligente tu youtube su sei stupido tu sei tu stupido tu sei problema il problema di questa tifoseria tossica sei tu sei tu il problema ripeto allegri merda ok si rifa la maglia io ho goduto alla facciazza tua forzain ragazzi casa di cura portamola in casa di cura comunque continuo ancora con l'allegrendus perché io ho mai come soggetto e lo fai apposto lo so per me tu sei una rubrica una rubrica che mi porta quelle mille viso ma perché da sfuttere capito però tu offenditi vosso vendino ti ho detto stai sempre attendo a quelli malati mi dispiace per te questo sì io ti sfutto ma occhio di fosi malati che appena devo non lo so io non lo so anche tu perché ti metti la la stanzetta e poi devi stare attento fratello io ti sfutto io se la resta non fare più basta basta perché ripeto la tua battaglia contro allegri no che non è la tua di ripeto ancora posso capire con allegrendus allegrendus allegri ok ci sta ma tu sai cos'è la cosa in più che dà fastidio che tu praticamente insulti offendi dello stupido a tifosi vendini che vogliono vincere ai windows anche se allegrendus fa schifo cioè vedi che cosa comporta capito perché cosa perché tu devi raccimolare iscritti viso e ti ha portato a 74 mila iscritti bravo ma cos'hai guadagnato i soldi ok ma hai perso la dignità proprio da tifosi vendato proprio dalla maglia no ma non sono io perché c'è allegrendus che cazzo c'entra e la maglia sempre allegro ormai tanto fino ad allegri comunque quello ormai la testa c'è finito comunque ti consiglio di continuare perché allegrendus mi serve come rubrica tu dico subito quindi c'è la cammese da c'è la cammese a c'è c'è la cammese anche sto cosa c'è la cammese ma non vedi che ti sputto pure c'è la c'è proprio quella cosa marcata noi dici tipo come pare paremmo a il personaggio buongiorno ma c'è la cammese c'è la cammese ma bau c'è velo tu sei fuso tu c'è velo è partito basta irrecuperabile tutta te youtube ti ha fatto male non c'è verso saluto forza napoli stasera perché per mi interesse che l'ha messo di essere prima vedi e allegri in merda basta e questi tifosi juventini veri così che all'iscia allegri no ma bene così non mi piace manca me ma manco ci dico alle che fila alle cani pezzi di merda cosa ci piace e tende sono il 30 per cento anche cioè amici pure allegri vi posso me insultare la mia fratella juventini no per questo ho deciso di non fare più dissing con tutte le specie di juventini ma sennò a me a essere l'acqua ma no si lo potevi fare come viso per pure io ma che me ne futo capito io se faccio dissing o lo faccio l'antiquendino come sempre fatto passato oppure a tutti questi giornalisti che si ripetono conosciuto dei cacci che non capiscono un cazzo capito quindi si ripeto cambia ripeto a te minimo o mai sta macchia ma non vuole esagerare ma ci vuole a te o cambi canale oppure chiedi scusa a tutte cose poi rifai un'altra rubrica la ti conoscevo un'altra persona allora poesi che ti sape ma quando tra 5 6 anni forse capito tu ti salverai perché tu hai perso mai tu ti salverai quando allegri se ne andrà sarà la tua fortuna perché ormai la malattia tu sei solo quando guarirai quando se ne andrà allegri però puoi non dire e maridona ti farei juventus e no e no perché quello significa tifoso occasionale è così è l'evento pure io ho stato andato in serie b o stadio comunale tu dovevi una stanzetta quando mai quando non ho visto mai lo stadio ma chi parla a fare che parla a fare comunque curati habsim ciao habsim pozzaino di farò